politica favarese sulla formazione della quinta giunta russello ancora incertezze è passato un mese e mezzo da quando sindaco assessori e presidente del consiglio avevano presentato le loro dimissioni nelle mani del responsabile di futuro e libertà francesco pullara dimissioni che volevano servire da sprone al gruppo fli per allargare la maggioranza in consiglio comunale con un'aggiunta monocolore come si sa è difficile poter governare una città dallo scorso 23 gennaio sono passati oramai 45 giorni e di allargare effettivamente la maggioranza adesso più che mai neanche l'ombra e dire che era stato proprio il partito del sindaco a chiedere ufficialmente al proprio rappresentante di trovare delle soluzioni in questi 45 giorni di incontri se ne sono fatti serate passate chiusi all'interno del palazzo di città per decidere quale futuro dare a favara all'invito del responsabile di fli pullara hanno risposto le mpa pd udc forte del sud più sei indipendenti si è riusciti a siglare un documento programmatico ma qualcosa ancora non riesce a sbloccare la situazione ad inizio la spartizione degli assessorati poi la formazione di un'aggiunta autorevole che possa risolvere nell'immediato e con competenza i problemi siglati nel documento di qualche giorno fa l'uscita di scena del pd adesso si registra un probabile suo rientro la domanda che si pone la città è ma a che gioco sta giocando la politica favarese seguita da un'affermazione non è possibile giocare quando in città i mille problemi si fanno sentire il fli al momento guida il paese con una giunta tutta sua sindaco e cinque assessori il sesto noto millefiori si è dimesso qualche giorno fa molti hanno accusato il fli di non prendere parola sulle difficoltà nate per la formazione del quinto esecutivo comunale accuse che il responsabile di fli non accetta affermando che il suo partito al fine di chiudere definitivamente le trattative ha accettato quasi tutte le richieste fatte dagli altri partiti e allora se alcuni partiti dicono di essere pronti per la formazione della nuova giunta mentre altri aspettano la manna dal cielo perché il partito del sindaco non chiude definitivamente la questione formando una giunta politica che possa lavorare seriamente per il bene della città forse i ritardi non intaccano più di tanto il partito di fini in quanto attualmente la giunta monocolore è ancora in carica e potrebbe deliberare con o senza coalizione